Il terreno di gioco 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 Abbiamo visto che Ballamaci È stato espulso Al primo fallo Di gioco E abbiamo E se vogliamo partire Dobbiamo partire Al 95esimo Con la partita finita Anzi al 91esimo Che è un'espulsione mia Perché ho detto Quanto manca E mi ho detto Si accomodi fuori Al 95esimo Un giocatore avversario Che adesso abbiamo già visto Le immagini Che cortesemente La regia ci ha mandato Al 95esimo Un giocatore Prende la palla con le mani Dentro l'area nostra E non dà il fallo E dà un calcio Non solo Un fallo laterale contro E poi su quella misca Al 95esimo Ha fischiato il gol E ha fischiato la fine Queste sono situazioni Che sono dettate a tavolino Non sono situazioni di calcio Perché le situazioni di calcio Avvengono sul rettangolo di gioco Sul rettangolo di gioco È successo Quello che è successo A Rossano Al 95esimo Un fallo clamoroso Su Zabbia Hanno continuato a giocare Hanno segnato il gol Al 95esimo E hanno fischiato la fine In questa situazione Hanno continuato a giocare Perché quella cosa clamorosa Con la mano dentro la vita E guardiamola Se poi forse sono io Perché sono di parte Se lei è imparziale Deve partire da qui Se poi vogliamo dire Che in 10 Abbiamo avuto 5-6 volte Per fare 2-0 E loro non hanno mai calciato in porta E allora tutta un'altra cosa Il contesto Il contesto della gara Deve essere scritto per com'è Non perché si è di parte Dobbiamo essere imparziali Se facciamo un discorso di parzialità Allora siamo obiettivi Se non facciamo un discorso di parzialità Allora ognuno si prende le sue decisioni I suoi pensieri E andiamo via avanti così